Signora Sirparo, lei diceva a microfoni spenti che dal 52, quando sono arrivate le vostre famiglie e sono venute ad abitare qua, ad oggi non è cambiato nulla. Non è cambiato niente. Noi non abbiamo luci, non abbiamo le cunette verso la strada che quando usciamo dal nostro pontino dobbiamo stare attenti che qualche macchina ci... Paghiamo la bonifica ma le cunette non vengono pulite da nessuno. Ogni anno l'acqua ce la mandano a Singhiozzo e va bene perché prima c'erano i turisti, ora ci mancano i turisti e lo stesso l'acqua viene a Singhiozzo. Ed è quello. In più, volevo dire, le luci sono sette anni che si sono rubati i fili e la provincia di Crotone, che non era, non lo sarà mai una provincia, perché non hanno fatto niente per Capocolone né per Crotone. Noi stavamo bene quando eravamo in provincia di Catanzaro, perché Catanzaro ogni anno rifaceva la strada, prima della festa della Madonna, venivano e asfaltavano la strada, dal cimitero fino a qua. Una volta che siamo passati con Crotone non l'abbiamo visto più, abbiamo visto solo Ruderi, Ruderi e niente più, ci hanno promesso. La provincia di Crotone ci ha promesso che venivano a mettere le luci. Quando si sono rimangiata la parola, ci hanno detto che dovevano pagare per i dipendenti del comune, dovevano pagare gli straordinari e quindi quei soldi li hanno spessi diversamente e hanno abbandonato Capocolone. Però i politici, i signori del comune vengono a farsi la passeggiata qui a Capocolone a prendere l'aria pura, però quando vengono qui vedono quello che c'è e non pensano. Come abbiamo ridotto la zona più bella di Crotone, il fiore all'occhiello di Crotone? Niente, non se ne fregano. Vengono, si fanno la passeggiata ed è finita. E non è giusto questo. Non è giusto.